Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Piero Canonico e Fabio Domenico Chiarelli, due 26 anni, addestati in martedì, il primo in carcere e il secondo i domiciliari, nell'ambito delle indagini sulla morte di Vito Caputo, il 29enne di Mola di Bari, ucciso a Capurso nel tardo pomeriggio del 16 marzo scorso. Entrambi si sono presentati davanti al GIP Nicola Abbonante, hanno confermato le dichiarazioni già rese a IPM pochi giorni dopo il fatto e hanno ritenuto di non dover raggiungere altro. Canonico è assistito dagli avvocati Massimo Chiusolo e Loredana Manginelli, Chiarelli dal legale Fabio Schino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Caputo sarebbe stato ucciso da Canonico con 12 coltellate. Chiarelli, che avrebbe dato il via all'inseguimento automobilistico partito nel vicino comune di Cellammare e alla successiva rissa, sarebbe stato ferito gravemente, sempre da Canonico, con 9 fendenti. Canonico è accusato di omicidio volontario e tentato, omicidio, Chiarelli, di rissa aggravata e violenza privata. Indagato per rissa, ma non sottoposto a misure cautelari, è anche il padre di Canonico. L'inseguimento, la morte di Caputo e il ferimento di Chiarelli costituiscono l'amaro epilogo di una situazione conflittuale, tesa e malgestita da parte di Canonico e Chiarelli, scrive il GIP nell'ordinanza, nella quale si sono trovati coinvolti anche il padre di Piero, Renato e Caputo, ma l'auguratamente è deceduto, pur non essendo in prima persona interessato dalla balorda Chiarelli. Tra i due rivali in amore, si legge, Chiarelli infatti è il nuovo compagno della ex moglie di Canonico.